La mattinata napoletana del viceministro Riccardo Nincini, con delega alle infrastrutture e trasporti, è dedicata al tema dell'edilizia residenziale pubblica. Dopo l'incontro in sala giunta con il sindaco Luigi De Magistris, durante il quale è stato affrontato il trasferimento dei fondi governativi destinati a Napoli, passando dalla regione, il viceministro ha visitato con l'assessore al lavoro Enrico Panini le vele gialla e verde di Scampia ed ha avuto un lungo colloquio con gli esponenti del comitato. I costituenti dicevano che per essere liberi bisogna avere due cose, per godere del libero arbitrio, una casa e un lavoro. Noi intanto affrontiamo il problema della casa con l'urgenza che si deve. Io non sono qui in visita di solidarietà, sono a verificare che le cose vadano con il Comune di Napoli, con l'urgenza che è stata impressa dall'amministrazione comunale facendo un ottimo lavoro. Noi ci abbiamo messo i nostri fondi. La questione del lavoro non dico che verrà successivamente, dico che è ugualmente importante, c'è bisogno che riprenda l'economia italiana e c'è bisogno anche che alcuni provvedimenti del Governo abbiano l'incidenza che aspettiamo anche su alcune città dove la densità e la pressione abitativa e dove la disoccupazione giovanile sono più alta. Mi fa piacere che il Ministro è venuto a vedere con i suoi occhi il lavoro che stiamo portando avanti da circa 30 anni alle vele e in più il piano di fattibilità che oggi sta cominciando a portare i suoi frutti rispetto al 2004 che l'abbiamo presentato al vaglio del Governo. Oggi sono stati stanziati 18 milioni di euro del piano di periferia per abbattere queste brobri perché l'obiettivo del Comitato storicamente è sempre abbattere questi mostri di cemento. Io credo che si stanno portando avanti processi importanti rispetto all'abbattimento delle vele, rispetto alle nuove logiche che sono stati consegnati recentemente e continuiamo con la nostra battaglia affinché gli altri che rimangono alle vele hanno un diritto alla casa, una casa degnitosa, una casa dove comunque si può vivere degnitosamente e soprattutto si possono creare opportunità di lavoro per tanti giovani e pari di famiglia che oggi non hanno. Grande vicinanza del Governo ad un'operazione che avrà un rilievo mondiale, l'abbattimento delle vele e il ripristino del diritto di cittadinanza per la prima volta in un territorio importante e fondamentale come Scampia. Abbiamo illustrato il Ministro i tempi, abbiamo illustrato il Vice Ministro le nostre procedure, abbiamo trovato una condivisione, il Vice Ministro ha chiesto di poter con mano incontrare la realtà, poter parlare col Comitato Vele che svolge un ruolo di assoluto rilievo, insomma una giornata di lavoro destinata a cambiare, a contribuire, a cambiare il volto di questa città. Nel mese di giugno intendiamo cantierizzare ed abbattere la prima vela che è la vela verde. Ci siamo ripromessi in cuor nostro, lo dico con voce sommessa ma determinata, con l'autunno di svuotare la vela rossa in modo tale da poter procedere con l'abbattimento. Con due prime vele abbattute diamo un segnale di concretezza, ma non ci fermiamo perché dobbiamo realizzare un piano importante che significa la riqualificazione complessiva dell'area, l'abbattimento di un'ulteriore vela, la vela gialla, la ristrutturazione della vela celeste, insomma lavori in corso.